Teo, la mia ex in qualche modo vuole fare qualcosa, ma allo stesso tempo vedo che si tira indietro, vedo che fa un passo avanti verso di me, ma poi dopo torna sui suoi passi. Scusa il gioco di parole. Insomma, non si capisce, sembra più confusa di prima. Teo, che cosa posso fare? Ti prego. Solitamente è questo il messaggio, un messaggio comune che ricevo delle persone attraverso il mio canale Instagram, attraverso le consulenze o anche dei miei clienti stessi. In questo video cerchiamo un attimo di capire questa dinamica. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Ok, partiamo da un semplicissimo esempio. Lei fa un passo avanti e uno indietro, a volte magari anche due. Che cosa succede? Perché accade questo? Ma soprattutto tu, come ti comporti in relazione a tutto ciò? Devi capire che il processo di riconquista, soprattutto quando si tratta di persone adulte, persone che insomma hanno alle spalle anni di relazione, magari una famiglia, eccetera, eccetera, è un percorso che non si conclude con un on-off. Che cosa significa? Significa che in queste situazioni la riconquista stessa è un processo, è un processo graduale che va poi coltivato nel tempo. Mi capita spesso di sentire cose tipo, sai Teo, siamo stati in crisi negli ultimi due, tre anni, e nell'ultimo anno particolarmente poi siamo arrivati alla rottura. Ok, se è successo questo, ma pretendi che la riconquista sia uno schiocco di dita, ma soprattutto pretendi che la riconquista sia un passare dal buio alla luce in un tempo immediato, come se fosse un interruttore, c'è già uno con i pulsanti, la champer, non è questa la situazione purtroppo, non è questo il caso, perché la riconquista è un processo che si costruisce, cioè quando trovi l'altra persona disponibile ad accoglierti, a mettersi in gioco, è chiaro che anche lei parte magari con un po' il freno a mano tirato, perché non si fida totalmente, perché magari si sente che vuole, ma ha un po' di timore, ha un po' di paura, fa un passo avanti, quindi ok, poi si ritrae, torna un attimo indietro. Ecco, mi viene in mente l'esempio di un mio cliente che si trova in questa situazione, e mi è venuto su una metafora bellissima, del tipo, guarda, lei scende in partita, gioca qualche minuto, poi dopo ritorna nello spogliatoio per anche analizzare i dati, quindi è una cosa assolutamente normale, il processo di riconquista non è un vabbè dai, rimettiamoci insieme, chi si è visto si è visto, magari su carta può essere così, magari dal punto di vista pratico può essere così, ma non è la soluzione giusta, non è la soluzione giusta per il semplice motivo che è un processo, e questo processo deve essere poi coltivato nel tempo, quindi noi accogliamo l'altra persona indipendentemente da quello che l'altra persona fa, se siamo in questa condizione, è assolutamente importante anche capire il nostro atteggiamento nei suoi confronti, perché è molto facile, se succede questa dinamica, entrare un po' nella frustrazione, nelle aspettative, quindi se io ho delle aspettative, se mi proietto, se io vedo un passo e comincio a mettere aspettative su quella roba lì, quindi comincio, indovina un po', a mettere anche un po' di peso su di lei, è chiaro che questa cosa, lei non so quanto la possa rendere, questo peso intendo, e quindi magari dall'altra parte lei si tira un po' indietro, e dice, ok, tesoro, è troppo peso, non riesco a portarlo tutto, quindi tieni, torno un attimo di là, così mi ricarico le batterie, ok? Quindi è importante lavorare sulle proprie aspettative, e questo è fondamentale, e lavorare sul peso che magari noi diamo a determinate azioni, cioè la parola d'ordine deve essere assoluta leggerezza, perché più noi mettiamo leggerezza in questo contesto, più meglio è, ok? più meglio è, per il semplice motivo che ha oggi la leggerezza, è una merce molto preziosa, e se la tua ex si sente tranquilla nell'esporsi, senza avere il rischio che da parte tua ci sia in qualche modo un investimento spropositato rispetto a lei, vedrai che lei piano piano si scioglierà, ok? E' come se fosse uno di quei cani, perdonami l'esempio, sono animalista anch'io, che magari un cane che è stato sempre picchiato dagli uomini, brutti e cattivi, e quando ti avvicini tu che magari hai anche un pezzo di pane in mano per nutrirlo, lui ti guarda con un po' di diffidenza, ma gli metti il pane là, glielo metti là, e poi tu ti allontani, e da lontano lui dice mangiare, e prende, e mangia. Poi a distanza di qualche giorno tu torni, lui continua a guardarti con diffidenza, gli rimetti il pane, e fai un passo indietro, se prima ne hai fatti tre, adesso ne fai uno solo, quindi sta a distanza, il cane comincia a vedere, ok, questo umano in particolare con questo odore, dovresti anche farti una doccia, ma vabbè, con questo odore è associato a un qualcosa di positivo, non mi sta facendo pressioni, quindi posso tranquillamente consentirgli di avvicinarsi di più, magari al quarto giorno, al quinto, dopo una settimana, ok, Pavlov sarà contento di questo mio esempio, dopo una settimana io avrò insegnato a questo cane che non sono una minaccia, anzi sono un portatore di cibo buono, ok, non che il cane poi sia totalmente affettuoso nei miei confronti, o nei confronti degli esseri umani in generale, ma cerchiamo un attimo di capire, ora non sto dicendo che la tua ex è un cane, perché molti dicono, fanno associazioni strane, la tua ex non è un cane, e quindi è importante però capire l'esempio, cioè avvicinarsi gradualmente senza avere quel grandissimo peso legato all'aspettativa, senza mettere pressione, senza dare per scontato, perché diciamocelo, a volte noi uomini diamo per scontate tante cose, trombiamo con lei dopo la separazione, no contact, periodo di distacco, tutto quello che c'è stato, ci stiamo riavvicinando, ci stiamo riavvicinando e ci scoppiamo con sta donna, anzi, ci facciamo all'amore con questa donna, fantastico, nella nostra testa, ah, a posto riconquistata, no, caccapupù, non è così, non è così, è un processo graduale, perché se la riconquista è stata a partire da zero, arrivare a 100, quindi scalare questa montagna, se è stato difficile scalare questa montagna, da 100 ad andare in su, è un altro paio di maniche ancora, quindi piano, piano, anche perché, cazzo vai, dove vai, perché più corri, più ti avvicinano alla bara, quindi goditi questo processo, d'accordo? Tra l'altro, se ti trovi in una di queste condizioni, io ti consiglierei tantissimo questo video qua, è un'intervista che ho fatto al mio cliente, è un mio podcast trasformato anche in video, te lo lascio qua direttamente, vattela a guardare, perché la storia di Federico potrebbe davvero aiutarti, e mi raccomando, non fare cazzate, a presto. A presto.